Abbiamo sbagliato tutto noi, alla fine del secondo c'è stato qualche errore di troppo, ovviamente lavoriamo per limare questi errori, ma i viaggi come dicevo non ci permettono di lavorare come vorremmo. Comunque adesso puntiamo ad andare alla Final Six e incrociamo le dita. Alla fine dipende veramente solo da noi, perché se noi mettiamo il piede sull'acceleratore come facevamo l'anno scorso, poi le altre squadre fanno fatica a starci dietro, perché comunque abbiamo un gioco veloce e l'importante è non decelerare.